Per rispettare le regole bisogna conoscerle, dialogo ed esempio sono il modo migliore per trasmetterle ai giovani. Per Gerardo Colombo resta centrale il ruolo della Costituzione. Sta parlando molto di Costituzione, di questo referendum che coinvolge tante parti della Costituzione. Non credo che parleremo delle riforme quest'oggi, oggi parleremo di più di quello che è, anche perché le riforme saranno sottoposte a un referendum e si vedrà se i cittadini diranno di sì oppure di no. Trasferire ai giovani le conoscenze per renderli liberi di scegliere. Io sono convinto che sia necessario che i ragazzi arrivino a una loro decisione per conto loro, quindi secondo me la funzione degli adulti è quella di dare degli elementi attraverso i quali poter decidere e poi la scelta è loro. L'esempio quanto è importante? È importante che ci si comporti coerentemente a quello che si dice, cosa che secondo me nel nostro paese è piuttosto rara, nel senso che si dicono delle cose e poi se ne fanno delle altre. Inevitabilmente i ragazzi, come tutti noi, imparano da quello che si vede fare, non da quello che si sente dire. Allora io credo che sarebbe molto 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 importante avere un comportamento coerente. Non basta la sala del San Demetrio per ospitare tutti quelli che avrebbero voluto partecipare all'iniziativa organizzata dalla Fondazione Rachelina Ambrosini. Parlare di legalità bisogna parlare sin dalla nascita oramai, visto e considerato che è diventato quasi un cavillo che bisogna trovarne poi una soluzione per portare avanti un discorso sociale, un discorso che deve impegnarci tutti e quindi avere la partecipazione con gioia di tanti giovani e sapere anche che abbiamo dovuto dire no a oltre 400 richieste ci permette di continuare, andare avanti e invitare già da oggi il dottore Colombo a tornare nella nostra città a Salerno. Grazie. 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 Grazie.